Barbanera, ecco il bel lunario Barbanera! Sono arrivati gli spazzacamini e han portato quassù i primi lunari. Barbanera dà a chi li vuole numeri simpatici e sogni. Emana da questi fogli un senso d'ordine, una morale certa. Ho letto questi lunari di domenica e mi è parso di santificare la festa. Grazie per la visione!